Ehi, vieni, guarda! Cosa possiamo farci? E adesso? Cosa state facendo? Guarda cosa abbiamo trovato per andare nello spazio! Addirittura! Avrete bisogno di rinfrescarvi un po' le idee! La freschezza di una crema al latte fresco ricoperta di croccante cioccolato. Kinder Pingui, da un guizzo in più alla loro merenda. Kinder Pingui, la freschezza alimenta la curiosità.